Marco si torna in campo con l'ostacolo Spezia sulla strada del Pescara capolista in campo per la prima volta da capolista e per cercare di mantenere questo primo posto Sì dai sappiamo tutti che Spezia è un campo difficile però la stiamo preparando bene e speriamo che la partita vada bene dai cerchiamo di partire subito forte e poi comunque di affrontare la vista viso aperto perché ce lo possiamo permettere Tra i segreti del Pescara c'è anche questa ritrovata graniticità della difesa Marco Perrotta sta trovando un po' meno spazio probabilmente anche rispetto alle tue aspettative però ci sono Campagnaro e Gravion che stanno rendendo davvero a grandi livelli tu continui a lavorare per farti trovare sempre pronto ovviamente Credo che la difesa quest'anno sia un vero punto di forza quindi sono molto felice perché stiamo lavorando bene io lavoro ogni settimana per farmi trovare pronto e poi comunque ora come ora che stiamo andando bene è giusto che giocano altri al posto mio però sicuramente sto sempre sul pezzo e mi faccio trovare pronto sono contento che il missa mi sta facendo entrare quasi sempre perché vuol dire che ha fiducia in me e nei miei mezzi quindi cerco di dare una mano per il gruppo perché quella è la cosa più importante Si dice che tra i segreti di questa squadra c'è questo senso di rivalsa di tanti giocatori che lo scorso anno erano in questa squadra e che per motivi diversi non erano riusciti a rendere come dovevano è veramente questo uno dei motivi di questo esploat del Pescara? Io credo che la vera forza è che tutti si sono messi a disposizione fin dall'inizio sia i vecchi che c'erano l'anno scorso che avevano voglia di rivalza come hai detto tu sia i nuovi e soprattutto i giovani che davvero ci stanno dando una grande mano si sono messi subito in disposizione, si sono calati nella categoria e credo che stanno facendo molto bene Parliamo anche un po' del futuro, Marco Perrotta ha rinnovato il contratto col Pescara resterà a Pescara, vuole restare a Pescara per tanti anni? Sì sicuramente, insieme al Presidente abbiamo raggiunto questo accordo sono contentissimo di aver rinnovato col Pescara perché comunque mi sento parte di questa squadra mi sento parte di questa città, sto bene qui e vorrei starci per molto Fino a quando Marco è rinnovato? Ho firmato tre anni di contratto Grazie! 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 Grazie!